Se passate da Torino fino al 2 settembre, quindi vuol dire in tutta questa estate, a Palazzo Lascaris, che è la sede del Consiglio regionale, nella Galleria Carlo Spagnolo trovate una mostra molto particolare, molto bella, che si intitola Sono altro, sono altrove. È un insieme di opere artistiche che sono state realizzate da artisti che nella loro vita hanno avuto e hanno attraversato momenti di disagio mentale. Il significato di una mostra come questa si racchiude nelle parole di Alda Medellini. Naturalmente io leggo dalla pubblicazione di questa mostra che voglio leggere con voi. Non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa accorgersi di un tramonto, chiudo gli occhi, mi scosto di un passo, sono altro, sono altrove. Venite a vedere queste opere perché è un arricchimento dello spirito e del cuore.